La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a lottare quando sembrava che non ci fosse alcuna speranza. Non c'è speranza senza paura e non c'è paura senza speranza. Per questo non bisogna mai arrendersi. Più dura è la battaglia, più dolce è la vittoria. E proprio quando si crede che sia tutto finito, proprio allora tutto ricomincia. La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. In tutte le cose è meglio sperare che disperare. Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. C'è sempre luce dietro le nuvole. La pioggia si ferberà, la notte finirà e il dolore sbanirà. Le anime più forti sono quelle provate dalla sofferenza. i caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Riponi la tua fiducia in te stessa. Affida a Dio i tuoi lamenti e le tue sofferenze. Fidati e vedrai, quando meno te lo aspetti, che succederà un miracolo. Forza e coraggio, la speranza non è mai così persa fino a tal punto da non poter essere trovata. Tra le tante cose importanti che hai già fatto nella tua vita, sforzati di fare quella che più ti riguarda. Tagliati un pezzo di tempo e invece di dedicarlo agli altri, regalalo a te. In questo tempo impara a sorridere quando non ne hai voglia. Impara a scherzare quando non c'è un motivo. Impara a vivere quando hai voglia di morire. Impara che mai puoi rassegnarti ai guai. Impara che puoi tutto quello che vuoi. Basta che ti ami un poco di più. Grazie.